Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Stone. Via Piano Dardine 15 a Tripanda. FCA ha deciso di rivedere il proprio piano di investimento in Italia da 5 miliardi di euro dopo l'approvazione delle tasse sull'acquisto di auto di cilindrata, medio, alta e diesel. A dirlo è stato proprio l'amministratore e delegato di FCA, Mike Malley, parlando con i giornalisti a margine dell'autoshow di Detroit. Certamente il piano deve essere riesaminato. È in corso di revisione e in questo momento stiamo lavorando per capire come adeguare il piano ai cambiamenti delle condizioni di mercato legate alle nuove regolamentazioni. L'ecotassa è stato certamente uno dei temi più dibattuti nella manovra e risultato finale che comunque da marzo scatterà l'ecotassa per le auto più inquinanti. Restano fuori le utilitarie. La tassa si pagherà sulle auto di grossa cilindrata da un minimo di 1.100 euro a 2.500. Tutto questo a dire del governo per incentivare l'acquisto di auto non inquinanti. Alle parole di Malley è seguita la reazione dei sindacati che non sono disposti a mettere in discussione il piano industriale presentato a Mirafiori e si dicono pronti a fare di tutto per evitare che ciò accada. Non possono essere i lavoratori a pagare le scelte del governo al quale, sottolinea il sindacato, abbiamo già più volte sollevato la questione chiedendo di rivedere il provvedimento. Intanto i delegati della FIOM di Prato la Serra hanno avuto un incontro con il presidente della provincia. La CGL ha illustrato a Biancardi la situazione produttiva in cui versa lo stabilimento di Prato la Serra dove gli impianti continuano ad essere sottutilizzati a causa della crisi di mercato che sta attraversando il motore diesel che rappresenta il 99,5% di produzione dello stabilimento irpino. Il sindacato ha chiesto al presidente della provincia di farsi carico di promuovere ogni possibile iniziativa istituzionale convocando subito un tavolo con tutti coloro che sono coinvolti nella vertenza FCA.